Ecco Giulia Sarti, 26enne, spigliata neodeputata del Movimento 5 Stelle, che ha partecipato a Rimini ad un affollato dibattito pubblico, sua prima uscita dopo il voto. Seguita da una troupe televisiva francese, il dibattito si è aperto con un breve racconto sugli ultimi avvenimenti romani, a cui è seguito un duro attacco alla stampa, giudicata di boicottare le tesi dei grillini. Noi in questi giorni abbiamo veramente subito degli attacchi massicci da parte soprattutto della stampa, non tanto dell'opinione pubblica, perché i cittadini sono qui che ci guardano, hanno tante aspettative. Da parte della stampa non vedo la stessa attenzione, ma piuttosto un fortissimo accanimento, come se fossimo quasi dei marziani. Peccato che ad esempio la nostra emittente ha cercato in vano di intervistare la giovane deputata già dal giorno dopo il voto con una lamentela che arriva quando lei stessa, prima del convegno, ha accuratamente dribblato e snobbato le domande dei giornalisti, che altro non fanno che il loro mestiere. I problemi di Rimini da portare a Roma sono tanti, ma da quali inizi? Da quelli che mi chiederà la base e stasera è una delle tante dimostrazioni per far capire che non sono da sole, non sono io che decido. Tra le richieste quelle di avviare la produzione di energia con la tecnica della fusione fredda, sebbene scientificamente ancora non è possibile, di abbattere le multiutiliti, come ad esempio era bloccare ogni tipo di finanziamento alle scuole private e con una piccola gaff la giovane onorevole si è detta intenzionata di istituire lo studio della Costituzione nelle scuole, sebbene questo già avvenga. Ma tema centrale è stato il rapporto tra il Movimento ed il PD di Bersani. Lunedì noi ci siamo ritrovati con un Bersani che si propone alla Presidenza del Consiglio, che ha i suoi deputati e senatori e che chiede la nostra fiducia. E noi a questa fiducia abbiamo detto e ribadito che diciamo no. E noi a questa fiducia abbiamo detto e quindi abbiamo detto andato che with disagre fragmentsi sono da immagini. Vedremo bisogno.